Come una macchia d'olio, Mercedes ampia le sue gamme, polverizzando l'offerta di prodotto in mille versioni, ciascuna adatta a rappresentare un ruolo possibile per i più diversi tipi di clientela. Questa, in sintesi, la filosofia che ha guidato la casa tedesca fin da quando dieci anni fa identificò il buco nel range di modelli al listino, rimediando con una implacabile logica tedesca che ha cambiato rotta alla progettazione e incentivato i modelli destinati ai giovani. Nel settore delle station wagon dalla tendenza sportiva, il primo prodotto che ha assaggiato il mercato è stata la CLS Shooting Brake del 2012. Ha dunque decisamente un suo stile e in Mercedes hanno subito battezzato slim fit, seguendo i modi di dire della moda. Rispetto alle classiche vetture che si è abituati a vedere con il marchio della stella, infatti, le nuove CLA Shooting Brake hanno creato una nuova famiglia, che rispetta canoni di moda appariscenti ed è a metà strada tra una coupé e la classica station wagon. Si rifanno insomma alla categoria delle fuoriserie di una volta, come quegli esemplari realizzati pressoché interamente a mano da carrozzieri famosi come Pininfarina, Vignale o Zagato intorno alla metà del secolo scorso, auto da sogno ricavate partendo da una realtà funzionale, seguendo un passaggio da station a supercar. Così viene soddisfatto l'ego di lui, che vuole una elegante e sportiva coupé, e insieme quello di lei, che ambisce a volumi interni abbondanti e razionali ma vestiti comunque con eleganza. La trazione su tutte le versioni è a 2 o 4 ruote motrici e i cambi manuali a 6 marce per i modelli base, su cui è disponibile a richiesta però anche il 7G Tronic a doppia frizione, di serie sui modelli con potenza più elevata. 4. Gli allestimenti di carrozzeria, a partire dalla versione Executive di ingresso, 31.390 euro, cui si aggiungono circa 2.000 euro per ogni allestimento superiore, business, premium e sport, fino alla 45 AMG, che però ha un divario di prezzo molto più netto. Quindi lusso e funzionalità insieme, ma anche una vasta gamma di motorizzazioni. Ampia la scelta dei motori, con due diesel, tutti 4 cilindri, da 136 o 177 cavalli, e disponibili anche nella versione a trazione integrale. Mentre nel settore dei propulsori a benzina si va da 122 fino ai 360 cavalli della C45 AMG, sempre con cilindrata di 2 litri. Anche con la scelta tra i benzina la trazione può essere anteriore o integrale, e i cambi, manuali o 7G Tronic a doppia frizione, caratterizzati da una rapidità di cambiata tra le più veloci in commercio, unitamente ad una grande fluidità nel passaggio di rapporto. Nella dotazione di serie inoltre abbondanti le diavolerie elettroniche destinate alla sicurezza, dal Connect Me per essere sempre connessi a internet grazie ad una SIM offerta da Mercedes per i servizi di emergenza, chiamata automatica del carro soccorso o di un'ambulanza in caso di incidente, con localizzazione GPS direttamente dal veicolo, fino allo Intelligent Drive che interviene attivamente anche sulla frenata di emergenza, grazie al radar di bordo. Con questo sistema fino ad oggi i tamponamenti in città si sono ridotti del 14%, ma l'obiettivo a breve, grazie appunto al nuovo radar, è di scendere del 30%. Grazie a tutti!